Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie! E' il medaglio? Aspetta! No ma è corto, è corto! Vado a scuola, deficiente! No, sta qua a voi Volevo fare un altro buco con voi Ciao Giù Ma come è Gesù fu un urmo? Ma come è sta cosa? Mannaggia Gesù Cristo Gesù dei Cristiani Guarda Gesù che fa, guarda, è clipato Oh maraviglia! Un miracolo, un miracolo Ma voglio vedere se mi rispondeva, ma glielo voglio far vedere tanto male Gesù fumatore Mi madre che verai? Oh ti conosco nel chat, qualcuno 3, 2, 1 Vedi? Ma gli ho clipate Ma come fosse? 3, 2, 1 Ma gli ho clipate Ci potrebbero essere i primi flussi piroclastici nell'intorno Ma quanto orsi tu qua con l'apunto? Stai scappando Vai dai 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 Eeeeeee Eeeeeh Vai fuori oh Vedi fuori oh Vedi fuori, che sto preparando la foto Oh 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 sorriso oh Lo stavano a parlare sulla storia Se la storia Ma pensai ci ciò che è meraviglia San Ma sei imbecille? Ma sei coglione ma hai rotto il piatto ma sei invece lì dai pigliano faccelo vedere che ti ho regalato madonna mia gli ho regalato questo buono no vi tengo i miei facciolini e festa di tacchino si sabato e domenica ragazzi ci sono e lupini è bella ma sembra che mangio tanto ma ho mangiato insalane 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no, supero, no. That's a mini beat Venlo. Alexa, spin tutte le luci. Ma che cazzo? Sto cucinando, sto scelto. Sto staccato tutto qua. Dai, vai giù, mannaccia la miseria. Balliore di Dio, c'è mai. Bellissimo. E mi ha salutato, no? Mi ha salutato anche a Napoli. E' forte, eh? Ma io lo faccio quando vi cedilli. No, no, no. Io lo faccio, sa che vi parlo di? E' la vizio, c'è, sono Napoli. Sempre stata a Napoli, la famosa. Ah, sai o no? Ah, non mi ha busto di cocaino, mi ha portato, scemo. No, Antonio, no, Antonio. Allora, lo sai che a casa tua c'è... Oh, attenzione! Non pensavo che era viva, ma... Ma lo posso provare in testa? Sì, certo. Allora, non lo è sfizio, no, lo è sfizio. Ok, grazie. Attimo, attimo. Attimo, sopra te. No, ma non avete giustato il pannone. No, ma non è proprio bello. E ora devi gridare, povere! Povere! No, scappolemo in della goscia. Al giù. No, mannaggia, Gesù Christi! Andò, ma già caputato pure? Sì. Ma tu ti sei miso proprio in coppulato. Se vedi che cocaino stai vastando. Eh, ma ti sei miso... No, è scomparso. Eh, sì, ragione. È fra il distrutto, come la mente è distrutto. Distrutto, aiuto. Sassi quanti danni, ma chiedo. Neel, ci ti zaccappò tovai, sto carico. È sold out. È inutile che ti dico il prezzo del biglietto. È sold out, frate. Ci dovevi pensare... Un paio di settimane fa. All'anno prossimo ti dico quanto costa il biglietto, no? Che ne saccivi quanto costa? Grazie amici di TikTok, grazie per le donazioni. Ma io mi sono tre ore. A chi stai giocando? Loll? Che schifo. Fa schifo, eh? E tu stai giocando con Morgana? Morgana? Non c'è giocando. Support. Ma c'hai in support? No. Vuol dire un account? Vengo in support. Ha un secondo account, non ce l'hai? Sì, lo dico, ci sono due. Ah, devi diste il bagno? No, no. No, mannaggia. Non c'è giocando. Devo scroccare una cosa. Ah, ma per la borsa, ma per la borsa. È piccerella, eh? La moda, il cos'è, è andato sulla cocaietta. No, mi sono. Ma che dici? Ah, aspetta, vieni qua. Ciao, ciao ragazzi. Sì, sì, no, dopo i telefoni... Vai, vai, telefoni nuovi. Eh, siccome l'iPhone va un po' schifo, quindi... Figlia Samusim. No, fa schifo, dai, lo fai il live. Samusim, Samusim. Eh, bella...